Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Inizia un nuovo anno liturgico, è la prima domenica del tempo di avvento. Avvento vuol dire venuta, il tempo della venuta. In realtà tutto il tempo è tempo della venuta del Signore, ogni tempo. Ma in questo periodo dell'anno liturgico speciale, noi ci prepariamo sicuramente al Natale, ma siamo chiamati a riscoprire la dimensione dell'attesa della vita cristiana. È una dimensione che ci accompagna sempre, perché amare, come qualcuno ha scritto, è attendere. Come sanno bene le donne che sono diventate madri, che cosa vuol dire attendere nove mesi la nascita di un figlio. Che sa bene anche chi aspetta un amico che viene da un viaggio lontano, che sa bene chi attende il risultato decisivo di un'analisi. Ecco, l'attesa è una dimensione della vita che dilata il cuore. Ed è proprio questa dimensione che siamo invitati a riscoprire. Nel Vangelo di questa domenica c'è una parola centrale. State attenti, vegliate, state svegli. Ecco, state in attesa, diremo così, perché quando il padrone di casa ritornerà, voi siate pronti ad aprirgli la porta. Non vi trovi addormentati. Come dire, non vi trovi distratti o completamente presi da altre cose, ma con il cuore vigile a cosa? Alle venute di Dio. Ecco, noi non è che facciamo finta di aspettare uno che è già venuto. Non è che facciamo finta che Gesù non sia nato. E quindi ci prepariamo al Natale, solo così ripercorrendo l'attesa degli antichi padri dell'antica alleanza. No, certo, anche questo abbiamo il maestro dell'attesa che è Isaia, abbiamo colui che ci apre la strada che è Giovanni Battista, le due grandi figure dell'Avvento, e naturalmente abbiamo Maria, colei che più di ogni altro ha atteso la venuta del Signore. Ma noi non è che facciamo finta di aspettare uno che è già venuto, appunto, ma attendiamo veramente il Signore che torna, che torni non solo alla fine della storia, ma che viene, il Dio che viene nella nostra vita, che è venuto, che cerchiamo e che viene ancora, fino all'ultimo giorno, quando verrà per chiamarci nel suo regno. Ecco, tutta questa dimensione dell'attesa che il tempo di Avvento ci invita a riscoprire, ad aprire gli occhi, ad accorgerci che il Signore viene nella nostra vita, viene in tanti modi, nei volti delle persone, nelle situazioni, nei segni che Lui ci dà, nella Sua parola, nei sacramenti, nella comunità, che ci trovi con un cuore attento, un cuore sveglio, vigilante, un cuore pronto ad aprirsi alle venute del Signore, al bacio con cui Egli ogni giorno ci si offre. Buon cammino di Avvento! Grazie!